Siamo al nostro spazio con l'Accademia della Crusca e oggi lo introduciamo con una clip particolare, guardiamola. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa. Trend negativo. Trend negativo. Io non parlo così, non penso così. Trend negativo. E allora, dallo sguardo di Nanni Moretti in Palombella Rossa, che è protagonista del Torino Film Festival in versione restaurata, noi diamo benvenuto a Rosaio Coluccia, accademico della Crusca, è il nostro ospite perché le parole sono importanti, come diceva il regista romano, ma ce n'è una, a proposito di giornata sulla violenza sulle donne, che ha preso il sopravvento in questi anni. E' femminicidio in contrapposizione all'omicidio, perché l'omicidio è, per definizione di genere, la morte per mano violenta di un uomo, femminicidio invece di una donna. Questa distinzione c'è anche in altre lingue? Sì, c'è in buona sostanza la parola femminicidio, si va espandendo. Fermiamoci sul caso italiano. Omicidio riguarda l'assassino di un essere umano, uomo o donna che sia, direi. Femminicidio è esclusivamente la violenza sulle donne, però attenzione, la parola usata è femmina. I vocabolari sono importanti, come diceva anche Moretti, ci insegnano a capire molte cose. Femmina cos'è? È l'essere femminile con notazione spreggevole. Nessuno dice la mia compagna femmina, si dice la mia compagna, mia moglie, ma se dico la mia femmina già sto dando una connotazione spreggevole. Femminicidio, assassino di una donna alla quale si attribuisce una connotazione spreggevole. Su di lei io posso usare violenza. C'è un'altra parola che ha preso successo, stavolta non, diciamo così, da semanticamente italiana, è stalking per indicare le molestie insistite. Come mai questa parola siamo andati a pescarla da un'altra lingua? Io credo che lì ci sia un altro fenomeno dietro. Stalking è come se, non tutti lo capiscono, o comunque capiamo grossomodo il significato, ma il significato viene in qualche modo addolcito. Perché non usiamo una parola reale, violentatore, disturbatore estremo? Lì avremmo capito di più. Stalking è come se capissimo un po' di meno, sì si fa stalking, ma non capiamo esattamente di cosa si tratta. Lì probabilmente abbiamo voluto attenuare il significato crudissimo di una parola come violentatore, come assassino, che altrimenti sarebbe stato ancora molto più forte. O forse sintetizzarla, perché stalking effettivamente è un po' più breve di disturbatore seriale, come dicevamo prima. Certo. Certo che nella lingua italiana c'è un problema di sessismo, questo lo possiamo dire, perché si parla di diritti dell'uomo, di uomo della strada, si parla di paternità dell'opera. Come mai c'è tutto questo maschilismo nella nostra lingua? Probabilmente dipende dal fatto che tradizionalmente in alcune culture l'uomo ha avuto una predominanza rispetto alla donna. Però le cose cambiano proprio in questo periodo e tutti ne siamo avvertiti. Le donne raggiungono posizioni che nella società finora, fino a qualche anno fa, non avevano mai raggiunto. E quindi nascono parole nuove che indicano questo successo sociale della donna. Sindaca, Ministra, Questora, Prefetta e anche nelle cariche militari. Grazie a Rosario Colucci, nostro ospite.